Tutte le rose di tutti i rosetti vorrebbe il cuore soltanto per sé, tutte le rose dei giorni più lieti, anche il mio cuore più triste non è, e si fan tenere, le bocche baciano, baciano e fremono, tra i frati e i piogoli, so che vuoi godere, so che vuoi in verde, prove di ogni colore, ma le rose rosse no, non le voglio vedere, non le voglio vedere. Ma il posto di lavoro è in agricoltura, purtroppo con le attrezzature che c'è adesso, la superficie diventa quasi insufficiente se non piccola, perché ormai ci sono delle attrezzature che gli attuali agricoltori potrebbero lavorarne anche di più, poter fare delle colture più ampie, avere più spazio, lì, purtroppo c'è ancora un certo numero di agricoltori a Piovesi, l'agricoltura a Piovesi è ancora molto importante, è un'attività molto importante ancora, è calata un pochino la piopicoltura, che una volta era anche una cultura molto attiva a Piovesi, adesso purtroppo con la chiusura delle fabbriche di compensato, questo prodotto sembra che non dia più il reddito che dava una volta, quindi tende a essere un po' abbandonato, ma con questo non è che il terreno venga abbandonato, anzi viene recepito dalle agricolture intensive, anche una parte va per le energie rinnovabili dei biomasse, l'agricoltura penso che sia ancora in questo momento l'attività ancora più importante, nonostante le industrie che c'erano una volta, perché in questo momento le industrie purtroppo una bella parte di queste hanno chiuso. Grazie a tutti.